Dopo dieci anni trascorsi in Bulgaria, Angelo Giuseppe Roncaldi viene nominato da più undicesimo alla fine del 34 delegato apostolico in Turchia e in Grecia, paesi senza relazioni diplomatiche con la Santa Sede. Se i rapporti con Atene non migliorano, la presenza del futuro Giovanni XXIII sul Bosforo è ricca di prospettive feconde. In primo luogo nei rapporti con lo Stato turco, edificato su ferre i principi di laicità da Ataturk e poi in favore della minoranza cattolica anatolica per la quale Roncaldi introduce la lingua turca nelle liturgie religiose e verso la quale si comporta come un vero e premuroso pastore. Di rilievo l'attenzione verso il patriarcato ortodosso con il quale organizza i primi incontri dopo secoli di separazione e l'avvio dei contatti con il maggioritario mondo musulmano. Ma la storia di Roncaldi in Turchia è segnata soprattutto dal dramma della guerra e dell'olocausto. Il delegato apostolico, di fronte alla tragedia della Shoah, non si risparmia ed organizza una formidabile rete di salvataggio per gli ebrei dell'Europa dell'Est. Roncaldi fa della Turchia il quartier generale di un'immensa impresa di aiuto ai perseguitati. Ancara diviene il crocevia verso la Palestina per tutti gli ebrei in fuga dall'Europa orientale. Roncaldi moltiplica i falsi certificati di battesimo, raccoglie viveri e vestiti, mobilita le sezioni della Croce Rossa. Un'azione nella quale il delegato riesce a contare sulla benevolenza dei funzionari del governo turco è anche su quella dell'ambasciatore tedesco, il cattolico von Papen. Si calcola che attraverso la Turchia riescano a mettersi in salvo oltre 20.000 ebrei. Un'opera poderosa riconosciuta quest'anno a maggio anche dalla Knesset, il Parlamento israeliano, in una solenne seduta plenaria. Nel 1944 Roncaldi viene trasferita a Parigi, ma le esperienze di quel decennio su delle rive del Bosforo sono fondamentali. L'impegno ecumenico, l'attenzione verso gli ebrei e musulmani sono mattoni con i quali Giovanni XXIII costruisce alcuni dei pilastri del suo pontificato. E poi la Turchia stessa rimane nel suo cuore. Durante la sua permanenza nel paese crea un'atmosfera di amicizia sincera con le autorità locali. Un'amicizia che continuerà anche successivamente. Sarà Giovanni XXIII infatti in seguito alla visita di Seral Bayar, presidente della Repubblica di Turchia in Vaticano, nel giugno del 59 a instaurare con Ankara relazioni diplomatiche ufficiali. Un'attenzione che arriva al Bosforo non è mai stata dimenticata, tanto che per molti ad Ankara ed intorni Giovanni XXIII è ancora, con una punta di affettuoso orgoglio, semplicemente il Papa turco.